Che cosa vuol dire fare produzione? Produzione significa prendere una canzone, spesso aiuto anche a chiuderla la canzone, perché i ragazzi che si presentano a fare questo, che si pongono a fare questo lavoro, spesso, non essendoci tra l'altro una scuola diciamo su come scrivere le canzoni, spesso si trovano a avere delle buone idee, ma incomplete, non chiudere, con una forma che potrebbe non far arrivare questa buona idea. Senza i bordi. Infatti, quindi più che la produzione a me piace proprio mettere mano sulla forma canzone, a capire che cosa può essere fatto perché questa buona idea possa arrivare nel miglior modo possibile. Che spesso è anche un bilanciamento tra dare una parte, arrivare fino al punto che non annoia, cambiare, arrivare fino al punto che non annoia questa parte, ricambiare, quindi è proprio una sorta di bilanciamento tra quello che tu puoi esprimere e quanto puoi variarla questa cosa.